l'adria villa fastigi la polizia cattura i responsabili denunciato intestatario di 200 auto coinvolte in furti allerta gialla per la pioggia torna la neve nell'appennino il non compleanno di rossini apre il 140esimo anno del conservatorio enoturismo 16 ristoranti apparenziano l'itinerario divino buona serata benvenuti al nostro rossini news oggi è mercoledì primo marzo apriamo questa edizione con una bella notizia in modo particolare con un'importante svolta su un caso di cronaca che abbiamo trattato proprio in questi giorni la polizia ha infatti individuato e fermato parte di una banda croata specializzata in furti in abitazione che in questo mese di febbraio ha colpito una ventina di case nel quartiere pesarese di villa fastigi allora vediamo tutto in questo primo servizio dopo tre weekend consecutivi di furti nelle abitazioni di villa fastigi la polizia di pesaro intervenuta con quattro pattuglie della squadra mobile ha individuato e fermato i primi responsabili già ieri sera era cominciato a circolare un video amatoriale divenuto virale sui social cittadini ritraente un'auto sospetta fermata dalla polizia un posto di blocco che nell'occasione ha mandato in fibrillazione alcuni residenti di villa fastigi per la cattura dei presunti responsabili alla luce degli accertamenti effettuati i componenti dell'auto sono risultati una famiglia di origine croata composta da un uomo e dalla sua compagna entrambi di 35 anni assieme alla figlia di otto anni la coppia di genitori è risultata gravata da precedenti perfurti in appartamento consumati soprattutto a ferrara l'identikit dell'uomo è corrisposto alla descrizione dell'autore di un furto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri proprio ad anno della pizzeria e della ferramenta di villa fastigi i due 35 anni sono stati condotti in questura dove sono stati acquisiti riscontri sulla loro partecipazione al furto i due sono risultati appoggiarsi in un camper in un terreno adiacente a via lago di lesina qui gli investigatori hanno trovato anche un altro nucleo familiare composto da un'altra coppia di origine croata pluripregiudicata per il reato di furto in appartamento e anch'essa residente in provincia di ferrara in particolare l'uomo un 25enne è risultato fratello del primo soggetto fermato ed è risultato soprattutto ricercato per essere evaso dagli arresti domiciliari il 5 marzo dalla sua casa di riva del po in provincia di ferrara un soggetto che deve tuttora scontare una pena residua di due anni e tre mesi estese le indagini a tutto il nucleo familiare si è arrivata a identificare una seconda auto già avvistata a villa fastigi segnalata dalla questura di pesaro quest'auto è stata fermata e controllata dalla questura di ravenna con a bordo un terzo fratello anch'esso pregiudicato per reati connessi al furto in appartamento a questo punto gli accertamenti si sono rivolti a chiarire anche la titolarità del terreno dove era il camper che ospitava il latitante terreno che risulta intestato ad un quarto fratello 29enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e furti in abitazione residente in toscana ma titolare di due distinti terreni a villa fastigi il croato latitante è stato trasferito nella notte nel carcere di pesaro mentre l'altro fratello e le due donne sono state colpite da foglio di via firmato dal questore intanto prosegue l'attività investigativa di un'indagine che non è conclusa ed ora continuiamo con la cronaca era intestatario di 240 auto coinvolte in svariati furti e questo il singolare caso di un 32enne denunciato al termine di una complessa indagine scaturita da un controllo della polizia locale di gradara e gabice era intestatario di 240 automobili molte delle quali coinvolte in furti un 32enne romeno residente a carpi è stato denunciato per falsità ideologica in atto pubblico e truffa gravata ai danni dello stato una denuncia che scaturita da quando ad ottobre una pattuglia della polizia locale di gabice mare e gradara fermò un'autovettura con a bordo tre cittadini serbi trovati in possesso di un vero kit del ladro composto di cacciaviti piedi di porco guanti e torce tre persone di cui una irregolare sul territorio nazionale che furono denunciate in concorso per il possesso di oggetti da effrazione mentre l'auto era intestata a un 32enne romeno che da certamenti è risultato proprietario di ben 240 macchine alcune delle quali già sottoposte a sequestri finalizzati alla confisca in quanto utilizzati per commettere reati il romeno di fatto risultava totalmente sconosciuto al fisco nonostante fosse titolare di una partita iva per la commercializzazione di autoveicoli un personaggio risultato inizialmente irreperibile ma già conosciuto dalla giustizia italiana in quanto al centro di un'attività che lo vedeva indagato per delle fittizie residenze in romagna funzionali ad ottenere il rilascio di numerose targhe prova a gennaio è stato richiesto un blocco anagrafico da inserire nelle banche date della motorizzazione impedendo così all'uomo di acquistare nuove autovetture e cancellando d'ufficio per intestazione quelle già in suo possesso e impedendone quindi la vendita dopo lunghe indagini la polizia l'ha rintracciato a gorizia mentre stava per espatriare oltre il confine italiano la pioggia caduta con insistenza anche nella giornata di oggi ha portato la protezione civile delle marche a emettere un bollettino di allerta gialla valido per tutto il territorio regionale fino a mezzanotte nella provincia di pesaro urbino i disagi si sono segnalati per lo più amarotta con i vigili del fuoco intervenuti per alcuni allagamenti nelle abitazioni è tornata però anche la neve sugli appennini su catria e nerone si sono depositati oltre 70 centimetri neve ma anche ghiaccio sulle strade come sulla pecchiese dove i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio dopo che un'auto si è capovolta sul valico di bocca serriola in un incidente senza feriti dopo i lavori di marche multiservizi torna di nuovo a chiudersi la viabilità del quartiere pesarese di case bruciate da lunedì 6 a venerdì 17 marzo sarà infatti chiuso al traffico il tratto della frazione compreso fra strada montefeltro e strada raschieto per garantire le operazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere comprensive di società autostrade in prossimità del casello della 14 durante i 12 giorni di intervento sarà garantito però un servizio di navetta per collegare il centro di case bruciate e la fermata dell'autobus in strada montefeltro ed ora cambiamo argomento e parliamo dello stadio benelli di pesaro tornato a far discutere nel consiglio comunale fra progetti approvati ed altri invece che faticano a decollare la telenovela sullo stadio benelli e sui suoi lavori a top che fanno storcere il naso ai tifosi della vispesero si è rinnovata di un nuovo capitolo in consiglio comunale consiglio che ha bocciato la mozione del consigliere daniele malandrino di prevedere un piano di stanziamenti canalizzato all'amodernamento dello stadio un contesto in cui l'assessore pozzi ha ammesso però l'esistenza di una nuova ricerca di fondi per andare oltre allo step del rifacimento del campo che è un progetto da 900 mila euro che diventerà cantiere all'indomani della fine del campionato un progetto lo stadio di fattibilità è un progetto preliminare che è stato approvato in giunta poche settimane fa e che porta oggi già un progetto definitivo a tutti gli effetti un progetto definitivo che andremo a condividere questa settimana con la società perché ci sono alcune richieste alcuni diciamo così suggerimenti che venivano dalla società in termini di un leggero avvicinamento del campo insomma piccoli accorgimenti sulle particolarità diciamo sugli aspetti tecnici del sintetico di ultima generazione ci sono alcuni passaggi che andremo a condividere con la società abbiamo già un definitivo siamo pronti poi una volta condiviso questo step ad avviare il procedimento di manifestazione di interesse quindi per andare ad assegnare ad aggiudicare i lavori entro la fine del campionato in modo tale da partire poi un minuto dopo che si conclude la stagione regolare con i lavori sul campo da calcio. Rifare il campo però vuole essere un punto di partenza per poi procedere ad ulteriori step in primis la rimandata copertura della Prato ma non solo sulla quale si stanno cercando nuovi finanziamenti. La copertura in realtà in questo momento si stanno cercando finanziamenti perché non è possibile arrivare, lei dice manca un progetto io penso che un progetto ci sia più di un progetto nel senso che le alternative di fronte a questa situazione sono due o si parla di grandi opere senza però avere una contezza con quella che è la situazione reale oppure si interviene su uno stadio lo si fa concretamente come è stato fatto e come lo abbiamo intenzione di fare nelle prossime settimane con una serie di progettualità di stralci funzionali a un intervento complessivo che ha una sua visione perché parallelamente al progetto definitivo che abbiamo approvato, al progetto preliminare che abbiamo approvato e il definitivo che va nella direzione che ho detto c'è un ulteriore progetto che non è passato in giunta perché in questo momento non abbiamo un finanziamento, realizzato dal servizio che fa capo all'architetto Severini quindi al servizio Nove Opere c'è già anche un intervento che prevede il lavoro di strutturazione di tutto quello che è la tribuna, la tribuna che quindi come lei già un po' anticipava prevederà perché l'ha stato detto un abbassamento della tribuna, un allungamento e una copertura, non si tratta di buttare via soldi ma si tratta di andare a realizzare poi la copertura e assolutamente sarà funzionale che cosa prevedere lo smantellamento e poi andare a realizzare la copertura e poi andare a realizzare la tribuna. Malandrino ha esternato curiosità nel capire se questo nuovo progetto andrà in direzione di una visione complessiva invocata da più parti. Perché non si prova a ripensare l'intera area? Nel momento in cui è possibile anche costruire degli stadi a step successivi cioè partendo magari dalle cose essenziali ma avendo ben preciso dove si vuole arrivare perché non si prova a recuperare tutta l'area? Perché non si prova a fare di quest'area un'area che sia fiore all'occhiello della città? Restando in tema di consiglio comunale di Pesaro è stata approvata all'unanimità la delibera presentata dal vice sindaco Daniele Vimini volta a portare allo stato di gemellaggio il buon rapporto già esistente fra Pesaro e la città cilena di Valparaiso. Due città creative della musica Unesco che da tempo hanno dato avvio a rapporti collaborativi che hanno promosso ricerche e approfondimenti sulle rispettive ricchezze musicali di Rossini e del compositore cileno Ortiz De Zarate. Ed ora parliamo di opportunità di lavoro. Poste Italiane sta cercando nelle marche Postini a tempo determinato. Chi volesse candidarsi può farlo caricando entro il 5 marzo il proprio curriculum vitae sul sito di Poste Italiane. Per poter partecipare alla selezione basterà rispettare due requisiti, essere in possesso del diploma di scuola superiore e della patente di guida idonea per la conduzione dei mezzi aziendali. La mansione richiesta sarà quella di occuparsi del recapito postale tramite consegna di pacchi, lettere e raccomandate nell'area territoriale di propria competenza. L'assessore all'operatività Enzo Belloni annuncia che domenica 5 marzo dalle 9 alle 12 il parco Miralfiore si aprirà alle visite dei pesaresi nei tre ettari della appena riqualificata area dei laghetti. I volontari della protezione civile accompagneranno i partecipanti alla scoperta della fauna locale dei sentieri recentemente sistemati. Nella sede della provincia di Pesaro Urbino è stata presentata oggi la 213esima edizione della Sagra Polentara di San Costanzo. Si tratta della sagra più antica delle Marche che domenica 5 marzo vedrà il borgo di San Costanzo animarsi di degustazioni, stand gastronomici ed eventi di intrattenimento all'insegna della polenta. Grande successo ieri sera per il concerto Milanierotta-Cendo con cui il Conservatorio di Pesaro assieme al popolare artista Elio ha onorato il non compleanno di Gioacchino Rossini e anche inaugurato il suo 140esimo anno di attività. Gli applausi di un teatro sperimentale stracolmo acclamano Milanierotta-Cendo. Titolo dello spettacolo lirico sinfonico confezionato dal Conservatorio Rossini come perfetto regalo di non compleanno a Gioacchino Rossini nella sera del 28 febbraio. Un concerto ideato dal direttore del Conservatorio Fabio Masini che ha invitato Elio delle storie tese come perfetto interprete per far sconfinare la musica classica in un repertorio giocoso ed espressivo. Elio che è entrato in punta di piedi sulle revisioni in stili diversi di 11 brani tratti dai pescè dei vieglies di Rossini tra cui l'ironico appunto Milanierotta-Cendo. La dolce melodia dei freni arrivati in stazione i leoni parigini offrono la mano alle cerbiatte per aiutarle a scendere dal vagone. L'orchestra del Conservatorio diretta da Luca Ferrara ha visto prendere parte al concerto i compositori Federico Augusto Agostinelli, Paolo Boggio, Filippo Caramazza, Delila Gutman, Mauro Ferrante, Daniele Gasparini, Lamberto Lugli, Michele Mangani, Aurelio Samori, Mario Totaro e lo stesso direttore Fabio Masini. Il Rossini Opera Festival vi ha aggiunto due suoi giovani cantanti come Pietro Daini e Chiara Tirotta. Elio al secolo Stefano Belisari si è invece riappropriato di un suo vecchio legame con Rossini determinante per gli ultimi anni della sua carriera. Sono già stato qui varie volte e come ho detto diciamo 25 anni fa è stata la volta più significativa ecco perché partecipando al ROF ho un pochino diciamo scelto poi di intraprendere un'altra strada che continua ancora oggi. Elio nel pomeriggio aveva preso parte anche all'inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio Rossini con 700 studenti che animeranno il 140esimo anno della storica istituzione cittadina. Credo che sia un momento importante perché diamo vita ad un anno accademico straordinario il 2022-23 e il 140esimo della fondazione del Conservatorio Rossini ed è anche un momento magico da un punto di vista di restituzione della bellezza alla città di Pesaro perché abbiamo avuto un importante finanziamento grazie alla coralità, all'impegno congiunto di tutti i soggetti coinvolti, Conservatorio, Comune di Pesaro e Fondazione e quindi posso anticipare che a breve indiremo la gara tramite la provincia per mettere a nuovo per quello che è possibile il Conservatorio Rossini. E vi ricordiamo a proposito di questo grande successo che c'è stato ieri sera al Teatro Sperimentale che noi di Rossini TV abbiamo ripreso integralmente questo bellissimo concerto e voi lo potrete vedere sul canale 80 venerdì 10 marzo alle ore 21 e 20. Ed ora passiamo da Rossini a Puccini, dal Conservatorio all'Orchestra Raffaello che in questo mese di marzo porterà sul palco di quattro teatri regionali l'opera lirica Tosca. Si comincia domenica da Cagli. La Tosca di Giacomo Puccini e la sua melodrammaticità saranno le protagoniste della stagione lirica 2023 dell'Orchestra Raffaello. Quattro appuntamenti che verranno portati sul palco di quattro teatri tra Marche e Romagna. Il 4 e il 5 marzo apriranno rispettivamente per l'occasione il Teatro Gentile di Fabriano e il Teatro Comunale di Cagli, mentre per il 10 e il 22 marzo l'opera lirica verrà riprodotta al Teatro Regina di Cattolica e al Teatro Sanzo di Urbino. Tosca è l'opera diciamo più passionale di Puccini, è un'opera moderna, attuale, come abbiamo detto anche nella presentazione. Fa parte del melodramma italiano, però nonostante tutto è un'opera che risente di quelle espridi, quelle di quei connotati moderni che anche ora oggi si ritrovano nelle opere. È un'opera che riguarda il tema dell'amore, dell'amore eterno, della passionalità, della spiritualità e quindi è un'opera che risente di quelli che sono i principi eterni dell'uomo, del bene e del male e quindi risentono di quelli che sono anche gli aspetti diciamo dei nostri giorni. A dirigere l'orchestra Raffaello in questo percorso di rilettura moderna offerta da Puccini c'è il maestro Stefano Bartolucci, capace in questi anni, come per questa occasione, di coinvolgere anche i bambini delle scuole per accompagnarli nella scoperta dell'opera lirica. Io farò la presentazione, ad esempio per Fabriano, il 4 facciamo la recita e il 3 andremo nelle scuole a fare la presentazione con i ragazzi, appunto con questo metodo di mettere dei cartelli a loro per farli sentire i protagonisti dell'opera a turno e ognuno di loro sarà un personaggio dell'opera così che memorizzeranno meglio le caratteristiche di ogni personaggio. Cerchiamo di avvicinare appunto l'opera ai ragazzi perché loro sono il nostro futuro e perché loro l'amano molto, cioè noi non ci rendiamo conto i ragazzi che vengono bombardati da messaggi dai media e quindi conoscono solo quello che gli viene proposto ma in realtà se uno gli propone la grande arte come l'opera o come la pittura o come qualsiasi cosa, loro l'apprezzano perché hanno un animo sensibile. L'intento degli musicisti e degli autori dell'epoca era proprio quello di poter raccontare delle storie in musica, quindi ecco la drammaturgia, l'aspetto drammaturgico è molto importante, molto presente e quindi quello che cerco un po' di suggerire, di aiutare sia ai musicisti che cantano che anche al coro è quello di riuscire a essere più espressivi, più appunto drammaturgici per far sentire quello che è l'atmosfera all'interno dell'opera. E chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di enogastronomia, 16 ristoranti della provincia sono pronti infatti ad accogliere la seconda edizione di Itinerario di Vino, tour enogastronomico orientato alla promozione dei vini e delle eccellenze gastronomiche del territorio. L'enoturismo delle Marche torna a far parlare di sé dopo il successo dello scorso anno passando dalla vigna alla tavola. Per questo itinerario di vino nato in collaborazione tra Confcommercio Marche Nord e Regione sono 16 ristoranti che hanno sposato questa iniziativa enogastronomica. Dal 23 marzo al 9 giugno 2023 16 sono gli appuntamenti previsti, dove al vino e alla novità della birra artigianale ci sarà un curato accostamento con piatti tipici del menù proposto da ogni singolo ristorante. Iniziativa importante dal nostro punto di vista perché lega in maniera ferrea il mondo dell'agricoltura al mondo della ristorazione. La ristorazione è da sempre secondo noi il veicolo preferenziale per appunto veicolare le produzioni tipiche della nostra regione. E questa manifestazione dalla vigna alla tavola che per noi diventa itinerario di vino, che è il brand che noi utilizziamo come associazione di ristoratori della nostra provincia, lo sta a dimostrare. 15 cene è un pranzo per presentare, offrire menu straordinari a base di prodotti del territorio, prodotti certificati, quindi prodotti slow food, prodotti biologici, prodotti DOP. Un'offerta degustativa che partirà dal ristorante La Lanterna di Fano per poi proseguire con il piccolo mondo di Monbaroccio e Nenè di Urbino. Ad aprile sarà il turno della ginestra di Acqualagna, la taverna del pescatore, polo pasta e pizze e lo scudiero. A maggio apriranno l'iniziativa il Rossini Bistrò, Gibas, Silvana, Civico 14 più 5, Farina, Maria, Papis Bar e Osseria Fontes. A giugno chiuderà il tour enoturistico alla Palomba di Mondavio. Questa è una bellissima occasione in cui si mette in campo la possibilità di offrire il meglio del meglio della produzione vinicola sia della nostra provincia che della regione. Riuscire a fare un qualche cosa di unico che molte volte, ecco, per alcuni potrebbe essere difficile riuscire a fare determinati menu e bere determinati vini ad una cifra abbastanza contenuta perché questo ognuno poi farà il suo prezzo, deciderà la sua serata, quello che è, però sicuramente non sarà prezzo pieno perché una parte di questi costi sarà coperto dalla regione Marche che continuano a credere già per il secondo anno in questa iniziativa anche perché da quello che si è capito poi le cantine hanno avuto un bel ritorno e anche alla ristorazione ha avuto un bel ritorno da questo come immagine. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma attenzione restate con noi, seguite chiaramente anche la seconda edizione, vi ricordo la seconda edizione di questo nostro telegiornale va in onda alle 20.40 e subito dopo alle 21.20 trovate un bellissimo approfondimento in collaborazione con il laboratorio Città di Pesaro dove si parlerà e verranno spiegati i numerosi servizi di questa attività pesarese. E poi domani mattina vi aspetto nella nostra rassegna stampa, alle 7.20 mettete la sveglia e mettete sul canale 80 perché ci siamo noi a leggervi le più importanti notizie, i titoli dei quotidiani locali, ci potrete seguire anche in diretta sulla nostra pagina Facebook. E poi vi ricordiamo domani è giovedì, torna una nuova puntata di Insieme a Canestro, gli ospiti in diretta a TV saranno Luca Pentucci che è assistente allenatore della VL e la giornalista Elisabetta Ferri, partecipate, scriveteci commenti in diretta al numero di Whatsapp oppure nella nostra diretta Facebook perché potrete vincere biglietti gratis per la prossima partita di domenica, come sapete domenica si gioca in casa alla Vitri Frigo Arena alle 17.30. E poi domenica 5 marzo potete seguire alle ore 17 la diretta delle solenne pontificale per l'inizio del Ministero Pastorale nell'Arcidiocesi di Urbino, Urbani a Sant'Angelo in Vado di Monsignor Sandro Salvucci, tutto in diretta su Rossini TV. Grazie per averci seguito, adesso c'è uno spazio dedicato al meteo, buon proseguimento di serata. Grazie.